Il centro storico dell'Aquila continua ad essere teatro di diverse risse, l'ultima in ordine di tempo ieri sera. Dopo che la polizia aveva sgominato in centro solo nei giorni scorsi una baby gang, ecco che c'è stata un'altra rissa. Un ragazzo è rimasto ferito. Diversi testimoni hanno assistito alle scene di violenza e immortalato con foto e video che poi sono andati immediatamente in giro per il web i protagonisti di questa zuffa. Una rissa che è scoppiata ieri sera alle 19.30 in via Fortebraccio, in pieno centro dunque. Dei ragazzi avrebbero tirato fuori una mazza da baseball e uno in particolare avrebbe colpito un giovane che è rimasto gravemente ferito nel corso della rissa, trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che sono state allertate da residenti e passanti che hanno assistito alla rissa e che l'avrebbero anche filmata. Proprio grazie alla documentazione fotografica e alle testimonianze, ora gli inquirenti si stanno muovendo per ricostruire quanto accaduto e soprattutto per stabilire le responsabilità. Purtroppo episodi del genere in centro storico continuano ad essere all'ordine del giorno e sempre animati da giovanissimi.